Rimpatrio, rimpatrio Non è che siete rimpatrio, è proprio una questione di... C'è un suo nome, non lo sotteriamo qua, ragazzi, un buco lì dietro, venire felici, quindi una patria del cuore Lo mettiamo nella sacca del Delta, lo mettiamo in un'autoportoccio Sotterratevi le palle voi altri, lasciate qui il tamido Te l'ho detto che la morte è sempre dietro l'angolo, ma con te è dritto sulla strada Che gordo Alto, fai una scena Il primo dito là, il secondo e il terzo Non sei fin del quattro, quindi sei diplomati allora No, ma non so mica come dite le mani No, guardi, guardi, solo il pollice, che si chiama pollice e alluce, poi sono tutti uguali Indice, medio, annulare e migli L'angolo è uguale Anche per il piede Questo è il camper di Mario Ora andiamo a fargli visita Vediamo un po' il cagnolino La Sofia Ciao Ciao Come va? Come stai? Vado a fare un video Come stai? Vado a fare un video No, sto in preghiero E' voluta bene a fare le Cosa mangi i patatini? Sono buone? E' voluta a fare delle belle riprese E' certo eh, la casa vostra Entra entra Il primo piano C'è un po' di casino E' bello però eh In 6 siete stati qua dentro? Sì Mamma mia Due qua, due là sopra La madre è dormita con la terrasse Qua c'è anche l'altro letto Che si aggancia Ah Eh beh sì certo L'altro letto io C'è un bagnetto, un doce Bello Ci ha avuto la casa dietro, lo vedi? Sì, rigorifero Lavandino Il rigorifero funziona sia a gas che a batteria Adesso c'è la corrente? Sì, c'è la corrente Lì c'è il generale Quadretto Eh bello, bello Tu sei servito del GPL per il gas? No, è piccolo ma è ben strutturato L'hai già finito il gas? No Quanto ce n'hai? Il GPL così dura un anno Sì? Sì, c'è un buon borone Un anno ci fai Sì, non è che tu ti gioca A seconda volta Chi è che sale qua? Un cane E' un cane Qua c'è la stufa E' un cane E lo vedo Ma ce la fa salire? Che faccia? Vai dai, sali su Sali Sali Aldo Faccio la stufa La stufetta E qua c'è il climatizzatore Che climatizzatore Cosa hai detto Sofia? Un bagno Sì? Che bagno è questo? Hai visto qualche catiera da adesso? No L'ho sentito l'altro giorno che non stava benissimo Abbastanza bene Sì? Sì Sì Sì